credo sempre che sia uno sport che possono praticare tutti e secondo me la cosa più difficile da superare magari è la paura dell'altezza ok e io sono un caga sotto ok e forse non si può cioè non si direbbe perché visto quello che fai direi però se vado a scalare in falesia o anche nelle pareti indoor e sono un caga sotto che secondo me è una cosa positiva perché mi fa fare le cose fatte bene il nodo l'assicurazione eccetera e però è una cosa che supera pian piano cioè secondo me bisogna iniziare è uno sport fighissimo che ti può insegnare tanto e ti può far superare anche questa paura pian piano con ascoltandosi e provando si può fare davvero tanto